Ciao amici di Sergaget, in anticipo rispetto all'uscita del 3 di febbraio vi mostro un oggetto molto interessante, si tratta del Samsung Galaxy A5 del 2017, che qui vedete nella sua versione nera, saranno 4 le colorazioni che saranno presenti in Italia, ci sarà poi un azzurrino disponibile, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, ci sarà un colore dorato e se non ricordo male anche una sorta di rosa, questa come detto la versione nera, potrebbe richiamare anche il Black Pearl del Galaxy S7 come interfaccia, oddio che spavento, qui vedete insomma un selfie che ho scattato ieri proprio con questa fotocamera, dicevo l'interfaccia è la Grace UI, quella che conosciamo molto bene per il Galaxy Note 7 e adesso tra l'altro anche adottata dal S7 Edge e dall'S7 Flat con il nuovo aggiornamento che arriva proprio in questi giorni, vedete un software gradevole, per me dal punto di vista proprio estetico un po' di bianco in effetti presente ad alcuni potrebbe non piacere, a me in realtà questo piace particolarmente, vediamo invece l'aspetto estetico, allora un lato con i due pulsanti di controllo del volume, quindi il volume rocker, vedete che ci sono due parti, sono praticamente in questo caso, perché questo è un modello che non verrà commercializzato in Italia, il modello dual sim, quindi c'è anche una doppia sim che però insomma non prendete in considerazione per quanto riguarda il nostro paese, per la parte inferiore invece c'è la prima novità, è stato spostato l'altoparlante, vedete c'è comunque l'attacco delle cuffie da 3,5 mm perché l'altoparlante è spostato in questa posizione, posizione laterale insieme essenzialmente anche al pulsante di accensione, poi la cosa da sottolineare invece che nella parte frontale del telefono, vedete c'è il sensore di impronta digitale che è qui riportato e poi la fotocamera da far notare tra l'altro, ve lo mostro in una posizione come questa, che non c'è praticamente alcun tipo di sbalzo per la fotocamera da 16 megapixel, così come da 16 megapixel è la fotocamera anteriore. Questo è un modello non definitivo, quindi è un po' difficile dare una valutazione precisa, ma tenete conto del fatto ad esempio che in questo modello il fuoco della fotocamera frontale non sempre è reattivo. Una delle novità interessanti della nuova interfaccia del A7 2017 è questo del pulsante flottante, in modo tale ad esempio che se dovete scattare una fotografia con il telefono in questa posizione potete farlo senza alcun tipo di problema. Vedete interfaccia rinnovato anche per la fotocamera con la modalità pro che vi permette di controllare tutti i dettagli che volete insomma gestire della fotocamera, poi avete visto in questo modo potete utilizzare l'hyperlapse oppure l'hdr, un sistema avanzato per la fotocamera, per le foto notturne e poi anche le foto insomma per il cosiddetto food porn. Torniamo però alla foto originale, vedete toccando essenzialmente sul display potete scegliere che tipo di esposizione fare per la foto e schiacciando potete o premere questo pulsante oppure quello tradizionale per vedere la fotografia. Avete visto che il tempo di memorizzazione è praticamente istantaneo, il livello scusate, ho pasticciato, il livello del dettaglio è buono anche se è un po' difficile forse farvelo vedere attraverso la fotocamera. Ovviamente con 16 megapixel frontali c'è la caratteristica che è quella di avere un'ottima qualità anche per i selfie. Vi faccio vedere un attimo Mr. Gadget di oggi, solo ed esclusivamente per farvi sentire l'audio, ma in realtà forse dovrei prendere l'audio di un sito inter, adesso come al solito devo azzerare quello che stiamo guardando, allora Radio Number One, eccolo qua, stavo curiosando tra l'altro in un sito di Android World, mi avete scoperto, sempre meglio che essere beccati con YouPorn o qualche sito di quella tipologia. Allora, vi dicevo, voglio farvi sentire un attimo l'audio di Radio Number One per renderci conto un attimo di quale possa essere la qualità dell'audio laterale. vi devo dire, non fantastica, se devo essere sincero, è vero che non c'è l'effetto tappo, è vero che non c'è la... Sentite, essenzialmente, adesso si era affermato lo streaming, però insomma, un buon volume, è vero che quando impugnate in questo modo o in questo modo per guardare dei videoclip, l'altoparlante rimane sempre libero, però onestamente non è che sia il massimo dal punto di vista della qualità del suono, c'è una definizione dei bassi proprio molto 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 limitata. Allora, io adesso ho aperto tutte le applicazioni, in realtà cercherò di... di chiuso tutte le applicazioni, anzi cercherò di aprirne un po' adesso per mostrarvi anche quello che potete fare con questo telefono, cioè tra le tante cose, ad esempio l'utilizzo del doppio display, no? Vedete che in questo punto avete posizionato ciò che voi potete guardare sul vostro telefono e poi potete spostare l'occupazione del display a vostro piacimento. Per poter raggiungere, insomma, questo tipo di soluzione, adesso usciamo ad esempio con un pop-up, se mi riesce. Allora, vedete, essenzialmente potete trascinare anche quello che state guardando, adesso riusciremo a fare il pop-up. Dicevo, potete trascinare ovviamente lo schermo per la visualizzazione verso l'alto o verso il basso a vostro piacimento. Devo dire che per quanto riguarda le soluzioni, insomma, di software, Samsung, come al solito, è sempre molto completa. Nel caso proprio del modello, vedete qui, ad esempio, avete la gestione generale, la parte di aggiornamento software, c'è la manutenzione del dispositivo per cui potete gestire la situazione della batteria, potete fare un'ottimizzazione anche del telefono, liberando, insomma, delle applicazioni aperte magari che non vengono utilizzate. Potete fare un controllo dell'utilizzo della RAM, 3 GB a proposito di RAM. A livello di memoria siamo invece con una memoria interna da 32 GB che si può espandere attraverso una microSD. C'è anche una certificazione contro acqua e polvere, esattamente una certificazione IP68. Tra l'altro, vi faccio notare anche un altro dettaglio importante, peso di 157 grammi, 146,1, 71,4 e uno spessore di 7,9, che non è tantissimo, però, insomma, è un buon livello di spessore. Il display è un Super AMOLED da 5,2 pollici full HD, ha una densità di 424 pixel per pollici. Vi ho già mostrato, insomma, il funzionamento del telefono nel suo insieme. Se lo utilizzate in un modo, tra virgolette, normale, devo dire che non c'è una grandissima differenza rispetto all'esperienza d'uso che potreste avere con il Galaxy S7. A perché richiama molto le forme, insomma, le curve del Galaxy S7 e B perché, insomma, il processore, l'Exynos di cui è dotato, si comporta comunque molto bene. Vi ricordo che qui dentro c'è un Exynos 7880, è un octa-core con architettura Cortex A53 e in questo momento, insomma, potete essenzialmente vedere come l'1,9 giga vengono gestiti abbastanza bene, ma queste, insomma, lo sapete, sono sempre funzionalità abbastanza semplici. Girare dentro un sito internet non è sicuramente una complicazione particolare. Per quanto riguarda le applicazioni installate, avete le applicazioni di Samsung che conosciamo ormai molto bene, compresa anche S-Voice. Molte di queste non sono ancora attivate perché io ho preso questo telefono per fare una cosa speciale in vista del 3 di febbraio, il giorno della sua uscita e stiamo proprio facendo un hands-on insieme. Vi faccio notare anche che su questo modello, non è detto che ci sia su quello italiano, è inserita anche la radio perché questo è un modello che sto utilizzando, come detto, per una recensione che devo fare per la produzione televisiva di Mr. Gadget, quindi comunque non il modello che arriverà in Italia. Altro aspetto da sottolineare, non apparirà subito, ma vedete compare adesso lasciando il telefono fermo nella sua posizione, c'è quella dell'Always-On display, leggermente migliorato rispetto alle prime versioni. Devo dire che secondo me Samsung su questo ha fatto un buon lavoro, ma ci sono delle versioni dell'Always-On secondo me che sono un po' più funzionali. Come per gli altri Samsung potete utilizzare i temi che potete scaricare a vostro piacimento, sapete che adesso potete anche cambiare le icone dei vostri telefoni Samsung con questo tipo di interfaccia. Oltre al sfondo e ai temi, le funzioni avanzate sono ad esempio il fatto che vedete, avete Game Launch e Game Tools per chi vuole essenzialmente riunire i propri giochi in un unico spazio e poi un'infinità di possibilità come rispondere al telefono semplicemente avvicinando l'orecchio, avere il fatto che avvicinando l'orecchio il telefono quando state guardando un sms e chiamate il contatto in questione e potremmo insomma star qui delle settimane per mostrarvi tutte quelle che sono le funzionalità riportate da Galaxy. Per quanto riguarda l'interfaccia, come per gli altri telefoni di Samsung c'è il Flipboard, c'è insomma l'update di Flipboard disponibile quando siete essenzialmente nella vostra home e fate uno swipe in questa direzione, mentre come sempre accade potete insomma aggiungere tutte le applicazioni che volete. Nell'interfaccia così come nell'interfaccia Android 7 avete facilmente la possibilità di ordinare l'ordine alfabetico, c'era anche prima di Android 7, però diciamo che questo aspetto con la ricerca nelle applicazioni con questo genere di puntini è identico a quello che troverete sul Galaxy S7 e il Galaxy S7 Edge dopo il loro aggiornamento al nuovo sistema operativo. Quindi insomma questa è veramente una preview hands-on, poi approfondiremo insieme con più calma la conoscenza di Galaxy A3 e Galaxy A5, insomma 429 euro per la versione A5, 329 euro per la versione A3, li aspettano nei negozi dal 3 di febbraio anche in Italia, promosso da mister Galli. Grazie a tutti.